Ciao ragazzi, sono Elena dell'Informa Giovani, vi leggo le notizie per il mese di giugno. Mi Generation, verso il forum delle politiche giovanili. Da maggio a settembre un intenso programma di appuntamenti coinvolgerà le più vivace energie dell'associazionismo, dell'imprenditorialità, della creatività cittadina, per anticipare insieme Mi Generation Camp, il forum delle politiche giovanili. Per saperne di più vai sul sito dell'Informa Giovani. Scambi europei. Gli scambi internazionali o scambi europei sono opportunità educative di breve durata, in cui diversi gruppi di giovani di varie nazionalità si incontrano per conoscersi, confrontarsi, divertirsi e condividere insieme un'esperienza unica. Sono finanziati dal programma Gioventù in Azione della Commissione Europea. Se vuoi saperne di più, vieni all'Informa Giovani, giovedì 13 giugno, dalle ore 16 alle ore 18. L'associazione Joint ti darà tutte le informazioni. G-Lab, Laboratorio di Cittadinanza Urbana. È un progetto pilota nato dalla collaborazione tra Assessorato delle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano, con l'associazione Rete G2 Seconde Generazioni. Si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza, attraverso un nuovo desk composto da giovani di origini italiane e straniere. Vengono organizzati incontri mensili, culturali, come seminari, dibattiti, ma anche proiezioni di film, DJ set, mostre artistiche, installazioni. L'arte di strada a Milano. Vuoi pronotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta, il portale creato dalla Federazione Nazionale Artisti di Strada, puoi farlo. Iscrizione online dal sito milano.stradaperta.it oppure direttamente allo sportello artisti di strada presso l'Informa Giovani. Vuoi andare a quel paese gratis? Ti ci mandiamo attraverso lo sportello di consulenza all'Informa Giovani dedicato al Servizio Volontario Europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Martedì 4 e 18 giugno, dalle ore 15 alle ore 18. Light Up. Continua lo sportello d'orientamento al volontariato all'Informa Giovani. Se hai bisogno di maggiori informazioni sul mondo del volontariato e se vuoi scoprire quali opportunità ci possono essere a Milano, Light Up ti mette a disposizione un colloquio di orientamento personalizzato. Il martedì dalle ore 14.30 alle 17.30 su appuntamento. Dote Comune. È uscito il nuovo bando Dote Comune, un progetto formativo con tirocinio rivolto a residenti o domiciliati in Regione Lombardia, inoccupati o disoccupati, di età compresa tra i 18 e 35 anni, e lavoratori in cassa integrazione straordinaria in deroga, lavoratori in mobilità ordinaria e in mobilità in deroga. Il Comune di Milano propone 8 progetti della durata di 6 mesi. Per informazioni vedi il sito del Comune di Milano. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 4 giugno 2013. Campo Giovani 2013. Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2013 di Campo Giovani, organizzato dal Dipartimento della Gioventù e dal Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Marina Militare, le Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana. È rivolto a ragazzi residenti tra i 14 e i 22 anni, che frequentino istituti scolastici superiori o siano iscritti ai primi anni del ciclo universitario. I corsi sono tutti gratuiti e hanno una durata minima settimanale. Vola alto, cittadini si nasce? Realizza un cortometraggio sul tema dello Ius Soli, che ne affronti uno o più aspetti con un reportage o una storia di fantasia, utilizzando liberamente qualsiasi linguaggio espressivo. Possono partecipare le persone di qualsiasi nazionalità, che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 30 alla data di scadenza degli elaborati, prevista per il 15 giugno 2013. Premio Marra. Il Comune di Milano mette a disposizione tre premi da 5.000 euro ciascuno, rivolti a giovani laureati o ricercatori, che abbiano discusso una tesi su seguenti temi. Logiche e strumenti di responsabilità sociale nel settore pubblico, nelle organizzazioni di privato sociale e nel settore privato. Sono ammessi alla selezione tutti coloro che abbiano discusso la tesi tra il 1 maggio 2013 e il 30 aprile 2013, presso qualunque università italiana. La scadenza è il 21 giugno 2013. Milano Summer School. Quinta edizione di Milano Summer School, promossa e sostenuta dal Comune di Milano, con un'offerta formativa estiva delle università, accademie e istituti di formazione milanesi, per offrire ai giovani talenti un'occasione per vivere un'esperienza speciale in una delle principali capitali dell'innovazione e della creatività. L'elenco completo disponibile online consente di individuare il corso estivo più adatto alle proprie necessità formative. Per questa volta è tutto, ci rivediamo alla prossima edizione. Ciao da Elena.